Continua il tour nelle scuole e la provincia per i giganti della Dinamo che ieri hanno visitato a Sennori i ragazzi delle scuole medie. Abbiamo sentito il coach del mini basket, Andrea Mulas. È una giornata per i ragazzi molto bella di Sennori perché è un'occasione per loro per vedere da vicino i giocatori, fargli delle domande, hanno potuto giocare con loro. E' stata rinnovata questa unione tra la Dinamo e il paese di Sennori che da un anno va avanti e andrà avanti per i prossimi anni perché la città risponde molto bene, sia le istituzioni che le persone, i bambini sono molto contenti, stanno già venendo in tanti e la Dinamo Academy è molto contenta di questa collaborazione. La risposta col basket è stata immediata, proprio così perché come dicevi tu c'è una mentalità sportiva molto quindi c'è stata subito una risposta ottima sia come numeri che appunto come affetto cittadino e questa giornata oggi è appunto per i numeri che ci sono è appunto il simbolo di come sta andando questo primo anno. Ripeto, nei prossimi anni continuerà sicuramente come collaborazione e la Dinamo appunto è contenta di queste collaborazioni perché poi alla fine la Dinamo non è solo Sassari ma insomma questi anni è sempre di più molto Sardegna e quindi nei paesi c'è sempre parecchio amore per la Dinamo quindi insomma sta andando bene, per questo primo anno sta andando bene.